Magno un contento di pop corn, il caramello che è una delle cose che preferisco al mondo e si chiama pure Tarchaser che è veramente bello come nome Come sempre scrivetemi nei commenti cosa vorreste vedermi assaggiare la prossima volta, la frequenza degli assaggi la decidete voi, più visualizzazioni ci saranno e più frequenti saranno Questa volta sono molto euforica ragazzi, grandi grandi speranze Com'è elegante Innanzitutto è buono, il caramello si sente, il cioccolato è buono Il pop corn si sente, in sottofondo il sapore Però devi proprio concentrarti, 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 ma è buono comunque Come voto il caraiotto A me i Magno mi piacciono sempre, quindi non è che faccio molto testo Certo, i pop corn ce li fanno un po' desiderare perché se ti inconcentri li senti, se no insomma Non me l'ho promosso, se volete provare un gelato buono, nuovo, questo ve lo consiglio Peccato per i pop corn, se fosse stato meglio, questo pop corn fuori avrebbe avuto anche un 9 10 no perché il perfezione non esiste E quindi